ciao ragazzi allora oggi fortunatamente c'è questo bel sole che dovrebbe far sciogliere un po la neve non è che faccia caldissimo però il vantaggio di vivere in questi posti a ridosso della montagna e che c'è questo freddo secco e così non appena esce il sole guardate si può star bene fuori senza cappello maglione e voi magari vi sembra che non ci sia la temperatura che vi dico ma vi voglio far vedere qui la fontana dei pesci lo vedete non so se si spacca tutto il ghiaccio i pesci sono solti ma questo è tutto ghiaccio ecco e nonostante ci sia questa temperatura se salta fuori il sole si riesce a star bene e questo è veramente salutare infatti se uno non frequenta degli ambienti troppo affollati noi vivendo qua si può dire che siamo esenti da influenze da qualsiasi cosa perché questo clima questo tipo di clima secco anche se molto rigido a volte ci tiene sempre in salute poi io l'alterno ancora sempre un giorno due se posso al mare adesso che c'ho la mia età cerco sempre di mantenermi un po in forma perché poi mi tocca lavorare con i cani e scorpio non so se lo vedete laggiù lui abbastanza d'accordo che non gli ho dato il pezzettino di pane dice allora il filmato te lo fai da solo bene cos'è che vi voglio parlare oggi l'avete visto non è il titolo praticamente vi ho messo perché bisogna allevare un cane affidabile per poi non doverlo cedere sentirsi dei falliti guardate questo è uno degli argomenti che conosco meglio in assoluto perché siccome mi occupo come vi ho detto di cani aggressivi insomma seguo sempre un po le persone che hanno aggressioni con cani di varie razze il bello che molte volte sono proprio cani da compagnia quelli che non se lo aspettava poi nessuno che esordiscono con queste aggressioni improvvise creano problemi nonostante la gente divida un po quelli che potrebbero essere i cani potenzialmente aggressivi da quelli che non dovrebbero essere aggressivi poi questo vi prego di farlo anche voi se siete interessati all'argomento guardate un pochino le statistiche vedrete quali sono quelli che creano più problemi quali quasi mai parlando di problemi familiari sono quelli potenzialmente aggressivi sono quelli che invece dovrebbero essere questi famosi amici del cuore che capiscono tutto che insomma diventano un tutt'uno col padrone poi quel cane che amava il padrone la padrone che amava il cane scopia diciamo il putiferio ed è proprio un po il soggetto del titolo di oggi e quindi uno se ne deve liberare e si sente dei falliti si sente un fallito questo è un argomento che poi rischia di complicarsi laggiù dove c'è una famiglia mi succede spesso dove magari c'è papà mamma due bambini e magari la nonna allora la nonna e il papà e la mamma magari e una figlia hanno un ottimo rapporto col cane uno di questi figli o di queste figlie non è riuscita a instaurare a guadagnarsi la fiducia del cane il cane inizia a verlo con loro e cosa succede togliere il cane che poi rimane poi l'unica strada perché non sempre si se la sentono di fare un recupero diventa un macello perché l'altra figlia perché i genitori hanno affezionati al cane poi specialmente la figlia che voleva il cane e che magari si era molto affezionata questo se danno via quel cane se trovano una migliore sistemazione diventa poi un motivo quasi di odio nei confronti della sorella oppure succede che vanno tutti d'accordo con la famiglia e il cane magari ce l'ha col proprietario cioè con il marito oppure vanno d'accordo tutta la famiglia ce l'hanno con la nonna allora sembra che tenere il cane sia un po come essere contro la nonna quindi quando il cane ce l'ha con tutta la famiglia ma non succede praticamente quasi mai perché non è vero che i cani impazziscono i cani valutano continuamente il rapporto che noi abbiamo con loro ci osservano loro non capiscono i nostri discorsi ma capiscono benissimo tutto ciò che ha relazione con la loro sopravvivenza con quella che può essere la nostra affidabilità nei loro confronti perché noi vogliamo il cane affidabile ma il cane dal primo momento che lo portiamo a casa quarta quanto siamo affidabili noi per lui perché noi anche se non ce ne rendiamo conto abbiamo la chiave di casa possiamo entrare possiamo uscire possiamo fare quello che vogliamo dall'appartamento dal giardino possiamo anche decidere di prendere il cane di far venire un veterinario di fare l'anestesia di portarlo dal come dire a un canire possiamo fargli l'eutanasia se il veterinario l'autorizza possiamo decidere noi per il cane ma il cane capisce che lui non può decidere nulla per lui lui non può aprire la porta andare dove vuole non può scegliersi un padrone non può dire qua mi trovo male vedo la mia vita la mia sopravvivenza un po in pericolo preferisco andarlo e non lui deve sempre stare in quel giardino quindi se noi non conosciamo quello che il sistema per poter crescere un cane affidabile crescere un cane affidabile vuol dire entrare in sintonia con l'animale dagli all'animale quello che lui ha bisogno ma specialmente far all'animale quello che lui si aspetta perché molte volte in una famiglia il cane va d'accordo con tutti tranne con uno con due per tutta una serie di meccanismi un po chi dava il cibo un po per ma specialmente non va d'accordo con quelli che dice no questi io li vorrei allontanare dal branco perché sono qualcosa di non affidabile per la nostra comunità voi due o tre vi voglio tante volte ci sono cani che leccano saltano addosso fanno di tutto c'è fanno il possibile per dimostrare l'affetto a una parte dei familiari e ce l'hanno con l'altra parte quindi quello che io vi ripeto sempre l'affidabilità del cane che è una cosa importantissima non dipende mai c'è una cosa bella però che non dipende mai dal cane noi potremmo possiamo prendere i cani più cattivi del mondo possiamo prendere i cani se vogliamo di tutta l'età possiamo prendere i cani di qualsiasi razza possiamo prendere i cani che più ci piacciono e se noi siamo in grado di crescere di crescerli e facciamo applicare a tutti i familiari determinate regole noi ci possiamo garantire al cento per cento la buona riuscita del rapporto che avremo con noi mentre l'efficacia del cane nei confronti di quello che può essere l'estraneo del lavoro che deve fare eccetera dipende molto dal soggetto se sbagliate soggetto siete un po fregati perché è un po la base di tutto invece costruire un buon rapporto con il cane dipende solo da noi quindi tutte le famiglie è una cosa che praticamente lo possono fare improvvisarsi è una cosa veramente da evitare sapere le cose in modo superficiale anche appena andato via da me una persona di perugia che è venuta stamattina a prendere una cucciola mi parlava di un cane che hanno in casa che l'hanno preso per poter fare la guardia però siccome non si fidano mai così tanto di questo cane non gli hanno mai fatto avvicinare la bambina di otto anni come voi non potete avere un cane la protezione familiare indipendentemente dalla razza che è e temere che ci siano problemi per i vostri bambini io questa è una cosa che non ce la farei mai a portare avanti perché può esserci invece quella volta che non ho fatto abbastanza attenzione e che magari può succedere chissà che cosa noi voi dovete invece conoscere il sistema prendere il cane la cucciola cucciolone cioè iniziare a far avere un rapporto paritetico a tutti i familiari dove il cane veramente consideri tutti i leader consideri dei grandi per lui un grande vantaggio andare d'accordo con tutti i familiari strutturare una convivenza di questo genere che ciò che vi dà la garanzia non al 100 ma al 200 per cento di non andare mai incontro a brutte sorprese bene vi ho fatto sto filmato perché in questo periodo voglio puntare molto sulla fidabilità che è stato un po il successo del mio progetto io la base del successo del mio diciamo di questi cani da guardia che io cerco di diffondere e che ormai da molti anni introducono le famiglie è proprio quello fanno la guardia ok sono temibili per i ladri ma riescono ad avere un rapporto si può dire perfetto in perfetta armonia con tutti i familiari anzi più i bambini sono piccoli più i cani quando sono forti equilibrati li considerano innocui e più nasce veramente questo rapporto questo chiamerei quasi soldalizio che loro possono solo proteggerli ma mai infierire ma tutto questo non può improvvisarsi non può essere lasciato al caso bisogna come dire fin dall'inizio impostarlo con delle regole precise che non sono quelle che voi trovate sui social non sono quelle che vi dice l'amico macellaio o quello al bar non sono quelle che il parente di famiglia che si crede cinofilo le sa tutte perché immaginatevi dopo tanti anni che io avevo cani se non partivo andavo a fare un sacco di viaggi nel mondo a ricercare proprio l'origine di quello che era il cane da guardia anch'io avevo incontrato un sacco di difficoltà e più applicavo le regole di quella che poteva essere la cinofilia chiamiamola ufficiale normale quella che sapevano tutti e più con questi cani forti di carattere che avevo io avevo in successo bene il mio video è concluso vi ricordo che entro stasera ma siete già un po in ritardo se volete comunque ce la potete ancora fare potete ancora usufruire di quello sconto sul video corso base sul canna guardia che anche l'unica chance che avete per accedere poi a questa giornata di approfondimento che vi sarà e vi sarebbe molto utile che faremo il 26 maggio qui da me a peveragno se voi non avete già fatto altri corsi base da me se non avete acquistato in passato il video corso bene entro stasera avete ancora la possibilità di acquistarlo scontato perché è molto probabile come vi ho già detto che dal prossimo mese salirà un po dal prezzo normale di 293 perché questi miei consulenti di inter mi stanno dicendo che questo video di quattro ore per il valore del contenuto che ha è un po sottoprezzo rispetto alla media di video corsi non solo di cinofilia ma di tutto ciò che rappresenta il panorama dei video corsi quindi io mi devo allineare un po a costi superiori quindi se volete ancora all'ultimo proprio in corsa entro stasera alle 24 potete scrivere a quel indirizzo fcg chiocciolacanilaguardia.com o contattarci in qualche modo per assicurarvi ancora questo sconto poi da domani passerà di nuovo a 2,93 poi come vi ho detto è probabile che salirà un po di prezzo ma non perché diventerà caro semplicemente perché mi è stato detto proprio da chi è specializzato in video corsi che per il valore del contenuto e per ciò che risolve nelle famiglie tutto il prezzo è un po troppo basso bene vi ringrazio tanto di avermi ascoltato a questo punto come vi dico sempre a fine settimana perché ci voglio anch'io è finita la settimana per tutti domani ci sarà questi due giorni un po di riposo se riesco vi faccio dei filmati ecco se potete non chiamatevi per troppe informazioni in questi due giorni io sono disponibile da lunedì al venerdì l'orario è dalle 9 alle 19 molte volte su messaggi e tutto rispondo anche molto presto la mattina ma sabato e domenica è un po anche per me per potermi rigenerare e poter poi riprendere questo lavoro intenso che faccio tutte le settimane ok ancora saluti e a presto alla prossima settimana ciao